Ciao a tutti e benvenuti! Ricordate quando vi ho parlato del trizio nella recensione del Rolex Explorer 2 che viene impiegato anche in ambito militare per sistemi di puntamento eccetera? Bene, oggi vedremo quella tecnologia però applicata in campo orologero con Tracer e Luminox. La luminescenza in orologeria può essere considerato un aspetto importante per altri un requisito di fornitura quindi un elemento fondamentale dell'orologio. In questo caso la storia di Tracer e Luminox è molto interessante perché nel 1969 l'azienda svizzera MB Microtech sviluppa un tipo di tecnologia che rende possibile l'autoluminescenza di alcuni piccoli componenti in vetro che sono realizzati con una tecnica particolare un estruso, un trafilato in vetro riempito di vapore di trizio e le quali pareti interne sono trattate chimicamente quindi l'interscambio fra il trizio e questo trattamento chimico al proprio interno favorisce l'effetto di autoluminescenza per un periodo che va anche dai 10 ai 25 anni. Questa tecnologia verrà poi sviluppata per il mercato tattico quindi mercato militare perché come vi ho detto è utilizzata anche per i sistemi di puntamento sulle armi ma viene utilizzata anche in campo civile quindi si trattano di prodotti dual use. Noi oggi vedremo questa tecnologia chiamata Trigalite su questi due orologi. Tracer innanzitutto perché è stato il primo orologio ad essere fornito nel 1989 all'esercito degli Stati Uniti e da qui Tracer fa capo proprio direttamente a MB Microtech e in secondo luogo poi vedremo anche Luminox. Luminox che ha un rapporto fatemi dire favorevole un po' di esclusiva con Tracer proprio perché anch'esso viene fornito all'esercito degli Stati Uniti in particolar modo oggi vedremo questo esemplare che con il suo marchio dei Navy Seals viene assegnato direttamente alle forze speciali appunto dei Navy Seals. Questi due orologi vedremo bene nei dettagli fra poco volevo solo invitarvi a iscrivervi a WatchFun attivando la campanella delle notifiche per vedere poi altri interessati video in seguito. Ecco gli orologi che vedremo oggi. Ringrazio tra l'altro il mio amico Dario per avermi dato la possibilità di mostrarveli e di spiegarli. Uno è il Tracer che è stato il primo orologio nato nel 1989 e il secondo in esclusiva Luminox che utilizza la stessa tecnologia Trigalite che vi mostrerò dopo. E visto che siamo in campo militare perché questi orologi comunque vengono forniti alle forze armate di tutto il mondo in particolare abbiamo qui questo modello di Luminox che viene fornito proprio assegnato ai Navy Seals come potete vedere anche dal simbolo che è rappresentato sul fondello. E visto che vi dicevo siamo in campo militare ho adottato questo tipo di sfondo oggi che è un pattern molto particolare che dal 2003 viene utilizzato sulle divise americane degli Stati Uniti. Si chiama MARPAT e deriva un po' dal CADPAT canadese che sembrerebbe sia nato prima. Perché questo tipo di disegno a quadretti sembrerebbe un po' contro natura perché in controtendenza alle finiture che erano maculate in un primo tempo si è passata questa digitalizzazione della texture. Però dovete anche ricordare che questo tipo di finitura non è fatta a caso cioè ogni dimensione di ogni pixel è ricavata tramite un algoritmo e questo serve per ridurre poi la visibilità della divisa all'infrarosso. Infatti con una visione infrarossi questa una divisa o comunque un telone con questo tipo di disegno è meno visibile rispetto a quello tradizionale. Parliamo adesso dei particolari di questi due orologi. Tracer è realizzato con una carrura in titanio, un fondello a vite come vedete ed è a vite anche la sua corona. Questo permette di raggiungere all'orologio la profondità di 200 metri. Ascoltiamo il suono di questa bella e robusta ghiera. Sicuramente è una ghiera dal rumore sordo, robusto, secco. Avete visto ho fatto anche un po' difficoltà a ruotarla. Questo garantisce il fatto che non si possa andare a variare la posizione nel momento in cui si, non so, si urta con l'orologio una determinata superficie. Altra cosa particolare, il quadrante non è molto affollato proprio perché per requisito la visibilità è molto importante e la vedremo poi dopo al buio. Il suo cinturino è un cinturino nato che permette all'orologio di raggiungere anche una certa leggerezza e poi è equipaggiato da un movimento al quarzo, un date che vedremo dopo. Le sue misure, andiamo a vederle subito. Abbiamo un di diametro 39.9 che diventano 46-45.8, lag to lag di 28.10. L'interno abbiamo, giusto per avere una misura della 22 e poi abbiamo sulla parte opposta 46.2. Lo spessore, interessante, 11 mm perché comunque abbiamo un quarzo. E questo è Tracer. Andiamo a vedere invece adesso Luminox. Luminox, come lascio qui nello sfondo Tracer per vedere un attimino la differenza, subito balza all'occhio la differente composizione della Carrure, perché questa è una Carrure realizzata con polveri di carbonio. Vi faccio vedere anche il particolare della realizzazione che è fatta su uno stampo e vedete questi sono i punti con i quali si realizzano questo tipo di prodotti. Il fondello è sempre in polvere di carbonio realizzata con queste resine, però è un fondello a vite. A differenza di Tracer, qui, a parte il fondello, abbiamo anche la corona. È una corona a scatto che però, curiosamente, permette di raggiungere all'orologio sempre una profondità di 200 metri. Però non dovete fare caso a queste cose. Il fatto che l'orologio possa raggiungere questa profondità è comunque data dal fatto che sull'asse dell'attigio sono presenti due o-ring di tenuta. Quindi se queste sono poi regolarmente sostituite, la profondità viene comunque garantita. Dovete anche, fatemi dire, pensare che un seedweller che è impermeabile a 1200 metri, che se non sostituisce poi la sua componente di guarnizione della o-ring perderà pure quelli impermeabilità. E quindi, le dimensioni. Andiamo a vedere le dimensioni che sono molto simili, se non quasi uguali, diciamo, a Tracer. Eccolo qui, abbiamo invece un lag-to-lag che è sempre simile e poi andiamo a misurare la parte opposta. Eccolo qui, 45. Abbiamo un cinturino che questa volta però è un po' più stretto perché siamo a 21, mentre lo spessore è 12.2. 12.2 proprio perché è data dal profilo del fondello che ovviamente essendo sovrapposto in questo modo con queste quattro viti ha raggiunto uno spessore un po' più importante rispetto a Tracer. Adesso andiamo a vedere il peso di questi due orologi. La caratteristica importante di questo orologio, come vi ho detto, è la cassa che è realizzata con queste polveri in carbonio. Guardate il peso, siamo decisamente sotto i normali pesi che abbiamo riscontrato sugli orologi che abbiamo visto fino ad oggi su questo canale. Andiamo a vedere invece il nostro Tracer. E abbiamo 50 grammi, 51. Questo perché abbiamo un cassa in titanio che fa molto sul peso, nonostante comunque il cinturino sia molto più leggero di un cinturino in gomma come quello di Luminox. Andiamo a fare una prova invece al polso. Veloce prova al polso, Tracer lo troviamo con un quadrante grigio matt che richiama i colori del titanio, mentre è totalmente nero quello di Luminox. Abbondano anche i particolari grafici su Luminox, un po' più affollato come quadrante. I vetri sono entrambi minerali, quindi su questi due orologi non abbiamo vetro zaffero, ma è possibile poi acquistare, come dire, in aftermarket dei layer da applicare proprio sui vetri che sono realizzati in vetro zaffero. Siamo all'interno di Tracer non solo per osservare alcuni particolari di questo quadrante, ma ci soffermiamo ad ore 3 dove all'interno del reo sono alloggiati questi piccoli componenti miniaturizzati. Vi dicevo che il trizio durante il processo di decadimento perde i suoi elettroni e quando questi elettroni vanno a colpire lo strato del vetro interno trattato chimicamente, vengono catturati e vengono trasformati in luce. Queste piccole variazioni di colore poi non dipendono quindi dal trizio stesso, ma dal rivestimento chimico del vetro, che può essere però quindi variato come avete visto, può essere blu piuttosto che, non so, rosso, arancione. L'intensità luminosa invece dipende solo dalla pressione di riempimento della quantità di gas che è presente all'interno. Ecco qui un dettaglio sulle sfere, come sono calettate. Normalmente paragonate alle sfere degli orologi meccanici, quelle degli orologi al quarzo sono un po' più delicate. Questa era in particolar modo ribattuta. Andiamo sul Luminox ed ecco il logo di Luminox, colorato rispetto a Tracer, e anche una finitura smaltata degli indici, come abbiamo visto. E andiamo anche qui ad ore 3, giusto per fare il parallelismo con Tracer, dove questi contenitori sono un po' più a vista e hanno una dimensione leggermente maggiorata, quindi con una luminosità maggiore. Nel riguardo sempre l'esposizione radioattiva di questi componenti, beh, noi siamo sempre esposti a fonti radioattive. In questo caso, questi orologi, se dovessero rompersi tutti questi componenti, avremmo un'esposizione di 0,004 millisievert. A paragone a un viaggio aereo a Francoforte, New York, si ha un'esposizione di 0,06 millisievert. Quindi è molto minore quella di questi orologi. E su questi orologi l'unità di misura della radioattività è indicata in Becquerel, che oggi è l'unità di misura in sostituzione del Curie, riguardante proprio l'attività radioattiva di una sostanza. Una unità molto piccola, tanto è vero che l'attività radioattiva di questi orologi è di un giga Becquerel, cioè l'equivalente di 25 millicurie, che sono riportati normalmente sui quadranti di qualche anno fa, con la simbologia T minore di 25 millicurie. Il valore su questi orologi è indicato sui fondelli. Andiamo a rimuovere adesso i fondelli di entrambi gli orologi per andare a dettagliare qualche elemento. Abbiamo due orologi al quarzo, come potete vedere benissimo. In questo caso però Oronda presenta dei rubini con delle placature in oro sui ponti e sulle platine, mentre è un modello un po' più tradizionale su Luminox, e quindi senza rubini, o meglio ne vedremo dopo alcuni particolari, e dei ponti che sono assolutamente privi di placature. Andiamo a vederli adesso. Andiamo a scoprire questo movimento Oronda che è all'interno del nostro Tracer. Intanto vediamo in azione anche le nostre ruote. È un movimento al quarzo, questo che equipaggia addirittura 5 rubini. Stiamo andando a vedere un particolare. Ecco, partiamo dall'inizio. Siamo sulla zona della batteria. Un'batteria che trasferisce poi il segnale, andiamo a vederlo, tramite il circuito, a questo piccolo tubicino che racchiude all'interno il quarzo. Questo quarzo, essendo sollecitato poi elettricamente, ritrasmette al circuito la frequenza che viene suddivisa e inviata, amplificata, alla bobina. Bisogna sempre fare attenzione, in questo caso, una particolarità di questo movimento è che la bobina non ha un cover di protezione ed è molto facile che venga incisa, per esempio, durante le operazioni di cambio pila. Proprio in questo punto andiamo a vedere uno dei punti deboli. Guardate come, per esempio, sono scoperte le due estremità della bobina. In questo caso è molto semplice andare ad inciderla e portare via i due conduttori. Quindi la bobina, vi dicevo, poi ritrasmetterà con il suo impulso elettromagnetico allo statore, che è questo che vi sto indicando in questo momento, questo è lo statore, che è composto da due poli, destra e sinistra, l'effetto elettromagnetico che farà girare il rotore, che è questo centrale, questo piccolo cilindrettino che ovviamente si presenta sotto forma di albero. A questo punto poi la trasmissione fisica avverrà sul treno ruotismi fino all'indicazione oraria. Vi ho fatto un po' un resoconto del video che ho fatto sul funzionamento dell'orologio al quarzo. Eccoci invece su Luminox, una particolare, sempre di questo movimento ronda, però subito mi soffermo su questo punto che vi sto mostrando in questo momento. Guardate qui, qui abbiamo una dicitura riportato un solo rubino, però se andiamo a vedere le sedi di questi alberi sembrano quasi, eccole qua, asolate. Una cosa che non è bella, ma sicuramente trasparente all'aspetto funzionale di questo orologio, non abbiamo dei grossi carichi come si presentano sugli orologi a pendolo. Su un orologio a pendolo ecco un foro del genere rasolato così, provocherà sicuramente il puntamento dell'albero e la sospensione del funzionamento dell'orologio. Quindi in questo caso non è un problema, siamo su misure molto miniaturizzate, quindi non ci sono di questi problemi, però si vede anche il tipo di movimento diverso dal tracer che abbiamo visto poco fa. Andiamo a fare un giro, le platine non sono, come abbiamo visto prima, con quella placatura in oro. Abbiamo sempre un tipo di bobina che è scoperta dal suo cover, sempre qui abbiamo i due collegamenti e poi abbiamo anche qui lo statore che vi faccio vedere subito giusto per riuscire ad orientarci. Questo è lo statore e ce l'abbiamo anche in questo punto leggermente coperto, mentre questo è l'albero del nostro rotore. Guardate come si muove. Sembrerebbe anche per assurdo che questo foro sia asolato, ma non lo è, non vi preoccupate. Questa è una copertura del ponte. Ok, abbiamo visto quindi anche l'interno del nostro Luminox. Proviamo adesso la luminosità di entrambi i modelli 3, 2, 1 ed è Luminox che prevale sulla sinistra poiché questi piccoli contenitori, questi involucri miniaturizzati sono leggermente maggiori rispetto a quelli che utilizza Tracer. Ma se andiamo a mettere un orologio tradizionale con sostanze Lumibright avrete capito che si tratta di Seiko, questo prevale nelle prime ore. Dopodiché Tracer e Luminox proseguiranno con questa intensità luminosa, si può dire quasi a vita, mentre il Lumibright esaurirà la sua fonte luminosa nel giro di qualche ora. Parliamo più o meno di 10 ore. Ed eccoli tornati. Abbiamo visto oggi due orologi al quarzo molto simili fra di loro. Tracer equipaggia dei rubini al suo interno, nel suo movimento, mentre Luminox possiede dei componenti luminescenti leggermente maggiorati. Lascerò poi a voi il compito di valutarli nei commenti, però posso dirvi una cosa. che entrambi questi orologi rispondono alla stessa specifica militare, l'AMIL standard W46-374, un documento che è emesso dal Dipartimento della Difesa americano in cui sono racchiusi tutti i requisiti che devono possedere dei prodotti del genere. In questo caso stiamo parlando di orologi. C'è un AMIL per ogni cosa, fatemi dire, anche per l'imballaggio di un prodotto, per evitare che si guasti, si rompa durante il trasporto. E in questo caso questi orologi, i loro requisiti parlano di robustezza, di performance, anche dei movimenti, piuttosto che anche di economicità, perché stiamo parlando comunque di orologi che non hanno un costo elevatissimo, stiamo parlando dai 400 ai 600 euro proprio massimo. Due orologi che, tra l'altro, hanno un'altra particolarità, quella dell'autoluminescenza. Un'autoluminescenza, pensate che mi farà luce fino alla pensione. O almeno, spero. Ciao a tutti!